Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it che riparti con noi, che riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese. Oggi vi parliamo di due appuntamenti che coinvolgeranno la nostra provincia nelle prossime settimane. Nello specifico sabato 8 aprile alle ore 17 presso l'associazione culturale Voghera Envia Felice Cavallotti 16 e il giorno successivo domenica 9 aprile alle ore 11 presso la Feltrinelli di Pavia. Che cosa succederà? Ci sarà una presentazione di un libro. Il libro è intitolato Le Belle Addormentate ed è scritto da Antonio Mocciola. L'autore di questo libro è proprio in collegamento telefonico da Napoli con noi. Antonio, buongiorno. Buongiorno, presente. Ciao a tutti. Ciao a te Marco. Buongiorno a te Antonio. Allora non posso che chiederti chi sono le belle addormentate del titolo. Le belle addormentate sono i paesi abbandonati che come appunto fossero sotto incantesimo sono dormienti, sono privi di vita umana, priva di abitanti, priva di respiro. E allora parlano attraverso la loro storia, attraverso le pietre, attraverso i segni che gli esseri umani hanno lasciato. La caratteristica delle belle addormentate di questi paesi è che sono stati abbandonati nel Novecento e quindi le tracce della loro storia sono quelle della nostra storia, sono visibili, sono puntuali, sono riconoscibili. Non parliamo di Pompei, non parliamo di luoghi archeologici, parliamo delle Pompei del Novecento, parliamo di paesi che fino agli anni 60, 70, 80 erano più che mai vivi e vitali e che abbiamo avuto la colpa di lasciare andare alla deriva per una serie di motivi naturalmente ognuno diverso dall'altro, che sia un evento catastrofico come un terremoto, un'alluvione o che sia uno spopolamento o altri casi un po' più particolari sono sempre riconducibili purtroppo alla stoltezza dell'uomo. Ecco io so che per la realizzazione di questo libro tu hai davvero percorso l'Italia in lungo e in largo, come si suol dire dalle Alpi alla Sicilia. Sei passato anche dall'oltreppo pavese o più in generale dalla provincia di Pavia oppure no? Sì, 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 sono passato, sono passato perché purtroppo tutte le province che hanno delle montagne e quindi parlo di Appennino, Subappennino o anche Alpi hanno fenomeni di spopolamento e di abbandono per cui anche la provincia di Pavia ha la sua bella addormentata che nella satispecie si chiama Rovaiolo. L'acquistoria è davvero singolare, devo dire, perché parliamo di un paese molto dopo Varzi, quindi siamo quasi al confine con l'Emilia. Costevezzo, Corbesassi, insomma da quelle parti lì, proprio la punta estrema della provincia di Pavia, Rovaiolo fu abbandonata non per un evento, che è uno dei casi che racconto sempre, quando vado in giro per l'Italia a presentare il libro, non per un evento catastrofico, reale, ma per un evento annunciato. Si annunciò una frana e fu quindi evacuato il paese, fu costruito nei pressi Rovaiolo Nuovo, la frana c'è stata, ma a Rovaiolo Nuovo, beffando dunque i sismologi o i geologi dell'epoca che avevano sbagliato allarme, che è un falso allarme. Un caso abbastanza singolare, anche se parliamo degli anni 50-60, non era infrequente che si verificassero casi di questo genere. Poi è chiaro, di posti ancora più piccoli ce ne sono anche in provincia di Pavia, però nel libro ho cercato di privilegiare intanto le storie, il sapore di una storia per cui un paese viene abbandonato e poi anche di distribuirli sul territorio, per cui dalla Valle d'Aosta alla Sicilia ogni regione ha i suoi esempi, i suoi allarmi falsi o reali che siano. E poi ci sono anche gli allarmi inascoltati, cioè dei paesi che erano sotto il radar di una certa attenzione e che invece hanno sottovalutato il rischio e sono finiti purtroppo nel mio triste elenco. Anche se poi nel libro ho cercato anche di trovare degli spunti di riflessione, non è soltanto una sequela di sciagure, ci sono anche probabilmente dei tentativi da parte mia di fare innamorare il lettore di questi paesi che sono stati sfrattati da tutte le guide turistiche e mi sembrava interessante dedicarle a loro una pubblicazione solo per loro. Ecco, che cosa significa per i lettori in un mondo così rumoroso, come quello che ci circonda, immergersi nel silenzio di queste belle addormentate, anche se poi tu dici nel libro è un silenzio apparente? Significa abbandonare le certezze del turismo facile, cioè del turismo che attraverso i vari TripAdvisor, che amo ovviamente, anche io ci mancherebbe, un turismo che si lascia imboccare come cucchiaino per quello che deve fare, dove deve andare, dove deve spendere. Questi paesi non hanno nulla da offrire, se non se stessi, al nostro portafoglio che rimane intatto perché non c'è niente da comprare. Questa è una cosa a cui noi siamo ormai disabituati, pensiamo subito al nostro budget, pensiamo subito a ottimizzare il posto dove dormire, mangiare e bere. Questi paesi sono esattamente l'Italia capovolta, cioè l'Italia che non ha niente da vendere ed è anche per questo che sono fuori dalle guide. Quindi il turista, diciamo più, ma mettiamo anche più snob, perché no, comunque più ricercato, nei propri gusti, può trovare qui esattamente quello che chiede e cioè qualcosa da osservare, da ascoltare. Questo è un silenzio che io chiamo apparente, anche se un silenzio non può apparire, in realtà appare e come, perché non siamo abituati a sentire il nostro respiro, il rumore dei nostri passi, i rami che scricchiorano, gli uccelli, i fushi. Questi paesi sono pieni di rumori, ecco perché il silenzio è soltanto riguardante, il silenzio è solo quello della voce umana, in realtà parlano e come? Parlano e raccontano, poi io ho voluto ricostruire la loro storia, ho intervistato gli abitanti che nelle vicinanze ora abitano e che prima abitavano lì, quindi ho cercato di fare un lavoro quasi antropologico di ricostruzione, ma quello che posso dire è che questa è un'Italia da amare, da riscoprire perché purtroppo i nostri eredi, anche fra 20-30 anni, questi paesi non li troveranno più perché la natura se ne sta riappropriando, le strade sono sempre più complicate da percorrere, la vegetazione si li mangia, proprio li copre, li occulta come un sipario e sarà molto difficile riscoprirli e ci perdiamo una gran fetta dalla nostra storia ed è un vero peccato. Bene Antonio, io direi di non dare ulteriori anticipazioni, anzi a questo punto invitiamo le persone che ci stanno guardando su Occhio Pavese a venirci a trovare, per i vogheresi l'appuntamento è sabato 8 aprile alle ore 17 in via Felice Cavallotti 16 presso l'associazione Voghere, mentre per chi è di Pavia ed intorni ci vedremo il 9 aprile domenica mattina alle ore 11 presso la Feltrinelli, sto parlando al plurale perché sarò presente anch'io, avrò il piacere insomma di fare da relatore a questa presentazione. Tra l'altro all'evento vogherese ci sarà anche il presidente del GAL che introdurrà proprio l'appuntamento, il presidente del GAL Nicola Adavastro e so che in entrambe le occasioni ci saranno delle sorprese top secret, insomma ci saranno degli attori. Sono delle letture drammatizzate da due attori, una ragazza e una ragazza molto bravi che renderanno il tutto un po' più vivo perché sai, noi ci invitiamo a scrivere ma poi quando bisogna narrare io mi affido a delle voci importanti, ecco. Giusto così. E allora grazie mille Antonio, ci vediamo quindi ad aprile. Grazie a voi.